hi guys fa la gallerina o la guacos che cazzo c'è che cazzo c'è ragazzi ciao ragazzi benvenuti a questa gara impugnata esplosiva non so come cazzo chiamarla ma in qualche modo la devo chiamare però con la t20 perché era così descritto e consigliato nella description che cazzo di curva è questa che cazzo è tutto questo in questi posti fa un palo così volante o cazzo subito ragazzi è che ho preso check point sono un cittone nato che cazzo di jack come l'ho preso non lo so vabbè noi continuiamo invece c'è altra gente che l'ha preso come l'ho preso io perché vedo che sono respawnati lì quindi la gara vediamo che cazzo e non avevo capito questo che è stato da qui dai 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 se di nuovo questa volta c'è lo slide non ho manchi di mattini ragazzi che recupero non ci credo avevo fatto il recupero del secolo e poi ha sbagliato così miseramente perché c'è poi intera più più in aria ecco qui dai dai ci siamo perfetto la semplicissima questa gara è semplicissima purtroppo bisognava saperlo prima che cazzo sono seguendo così si tornanti pazzi e curiosi ancora un'altra cosa così a qui dopo dobbiamo scendere tornare indietro a fare il giro ok lo capito è quasi una specie di gara direi una gemmecana dopo quelle gare strette con curve strettissime ci risiamo qui ragazzi proviamo a seguire questo one ride slideiamo ok perfetto perfetto così questa volta senza citare ci siamo siamo a testa posto proviamo di ora ci riprendiamo sicuramente mi porta tutto a posto però non ne sono così sicuro ok girati perfetto perfetto così già che ha concluso in prima posizione pedantic noi siamo a quarti ragazzi e credo che andremo a concludere in quarta posizione in terza no questo è il terzo ragazzi questo sono convinto che è il terzo facciamo una magia possiamo recuperarlo ahhh quarti ragazzi quarti ed eccoci al termine ragazzi se vi è piaciuto il video se vi piacciono questi video diciamo con queste gare così veloci rapide fatelo sapere nei commenti magari ne possiamo mettere anche due tre al giorno così divise e se potete lasciate un like che è sempre di supporto e mi fa sempre piacere ci vediamo al prossimo video fallow